cani tipo ho 15 anni non mi piace il mio fisico ma sto facendo di tutto per migliorare quello che devi fare 15 anni sei ancora un pischiallo ma hai tempo ma pure di ripetizioni di salta curda non serve nulla infatti tu potrai connetto non allenare i magli addominali, li hai già di base, basta ceni sotto il 10% di grasso per vederli bene quando è meglio scegliere galapting rispetto al resto, con i roi prendo sempre galapting perché soffro il mana quindi, lo sto dicendo non voglio fare un cazzo, ma chiudi gli occhi e pensa a ciò che devo fare che devo fare, eh grox, che devi fare, blue charm, blue charm, marry, marry, blue charm, marry bella bro, eh dai, almeno, sei tranquillo bene, bene dai, pian piano è tosta, ma non so se fino al primo maggio, fino al primo maggio vi terranno tutto, giusto? quindi vedremo, sarà un po' difficilotta ma, vedremo grazioni del sub, vi l'ho arrivato cani cani sì, ecco lo shredder ok, singa di ignite, ignite, ignite play, slow, yearly bro, io comunque ho 18 anni, pesa 90 kg e sono ottenuto 35 cazzo non riesco a togliere la pancetta, l'ho da sempre e non riesco a toglierla beh, serve esercizio, in tra i casi serve una dieta sana per levare la pancetta, oltre all'esercizio fisico, molto probabilmente quindi, credo che la parte più importante, io non sono, non ho studiato, quindi, non, questa, questo, questa materia, quindi in realtà non ti so dire però immagino che tu debba dare molto più peso all'alimentazione, piuttosto che all'esercizio fisico, in questo momento, però, non lo so quindi come vamo? va, non va ok, ho attaccato questo è entrata, va, l'offerato mio eh, l'offerex sembra una cosa brutta da dire, non fa neanche ridere, banatemelo per favore dalla chat temottatelo buono, come cazzo hai fatto a killarlo? te lo do, ecco è buona questa cosa, perché mi gradenta quelli ovunque quindi riesco ok, buono oh, ma, por che mio non ho via? ok, ok buono, buono ok, nice ok, anche te hai ragione però, riesco ad essere subito in forma, faccio anche due sport però mate, ma, guarda che le cose combattute sono le cose che ti daranno più soddisfazione della tua vita quindi non, non, non cioè, non non affrettare cose, non vuoi tutto subito che tanto ti renderei conto che le cose migliori sono quelle che oh, cazzo oh, cazzo ok tranquillo piano piano, 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 non mollare ovviamente all'inizio i primi risultati li vedrai dopo magari due o tre settimane l'altra settimana bene, i primi, proprio prima, che non sono niente di che però, pian piano piano piano, bro lorenzo carratos grazie mille, mate 17 mesi che portano pure ieri, tra l'altro pezzo ribbandono le cani, le cani, bro grazie mille, il supporto di niente, vinci il mio ragazzo ha scritto che voleva allenarsi a casa cosa, se 20 addominali al giorno andassero bene abbiamo detto, ah, se noi 20 addominali al giorno sono abbastanza pochi 100 addominali e 100 squat al giorno, tre settimane ci sta ma, io, conta che, quando facevo 5 giorni di palestra a settimana avevo iniziato con, tipo, 150 addominali al giorno perché le facevo sempre post cioè, in realtà facevo, allenavo gambe mentre facevo gambe, che facevo per ultimo allenavo anche addome cioè, non avevo recupero, facevo gambe e addome perché mi aveva detto, tipo, l'istruttore deve fare così e quindi il mio recupero era fare addome invece di rifare le gambe e vi facevo 5 serie di un esercizio che era la leg no, leg press, porca puttana come si chiama? stai seduto e tiri su con le gambe, minchia, non mi ricordo, raga scusatemi una piccola pecca però facevo quello leg curling, sì, possibile no no, 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 no extension, bravi leg extension, esatto esatto quindi così e ogni volta che facevo e ogni volta che facevo quello facevo gli addominali quindi facevo 5 serie di quello facevo 5 serie da 50 gli addominali e poi certe volte invece l'istruttore che io lo faccio insieme a mio amico quando facevo palestra tanta palestra ehm mai fallare una ai ragazzi è questo l'obiettivo guarda, guarda oh, ma ho fatto la ulti perché i tentacoli non li attaccano subito? no, raga, veramente ho fatto la ulti per attaccare subito i tentacoli non li attaccano subito merda perché così lo gebeto con la ulti i tentacoli li attaccano subito e lui non sa come vararli eh, sì, esatto devo buttare subito my bad ma sapevo sta cosa pensavo che anche dopo andassero questo è perché non gioco tanto io l'ho attacco di conoscenze ahiaiaiaiaiai questo è brutto torniamo all'op senza dp tranquillo, Diego quindi quindi se ci sono i tentacoli e ulti tutti attaccano subito non c'è il range la persona non vede il range quindi fa velocissimo capito? però devi voltare prima di che il tentacolo lo attacchi adesso lo sappiamo sta partita è brutta Yasuo ce la sta intanto ho detto gioca safe poi Yasuo contro il Nekton ma perché gioco così agro? non sarà un problema la Renekton Letty Game per me in realtà però eh ma la E è difficile doggiarla provo a doggiarla un euro da Doc Doc ci spieghi la situazione MB buonasera signor cane come va in bocca al lupo con il game va bene mi crea altri tentacoli è buonissimo grazie mille Broschio grazie tutto bene tutto bene va tutto bene ti ringrazio per me l'ho chiesto stiamo cercando di risalire di ieri un po' qua c'ho il tentacolo mania ecco vedi mo attacco subito il tentacolo ma perché non attaccarlo subito ma nai ce l'ho avuta ma l'ho fatto prima ma non capisco lo capirò più là il cartus mid è viabile è più forte in giungla perché giocarlo mid comunque la free win castle l'abbiamo già giocata oggi l'ho fatto 8-1-1 ho preso la vittoria e via è davvero rumia hai visto? non me l'ha fatto un'altra volta ci ho fatto caso o è un'impressione mia? Byron 96 con che lo faremo? che lo faremo? con la donna sin sarà 66 uh close grazie mille Byron dai che la prendo la staxi grazie mille sarà 66 bro al mio streamer preferito sei davvero il migliore ti meriti il meglio da tutto fuori buona sera cane grazie mille bro veramente sono parole bellissime sono parole veramente belle grazie infinite mate grazie mille alla nazione buona serata anche a te per quello che può essere una buona serata di questi giorni consigli per Singhead? sì non giocarlo come lo sta giocando lui ti piace? mi consiglio io non ho l'ulti up quindi non so dove sia ecco e non voglio giocare troppo aggro però voglio mettere il tentacolo qua ok no c'è co-top guarda come gioca questo ecco mille è un fall entry no adesso non è più tre tentacoli dura un tot la maledizione e basta l'hanno cambiata da un anno forse e non l'ha doggiata è un anno forse le doris sono tutte full hp, si, probabilmente, lo lascio così, l'air le rende, ah il mio l'air guarda, mi hanno pingato tutti benissimo per non riportarmi, e dai, pian piano si sale, e no, non serviva flash, gragas, nice, passaggio per forza secondo me non ne ho idea, ora non ho tentacoli, quindi con i loi senza tentacoli non voglio fai dare, ovvio, sono due mid loro, ecco è morto, l'autore la riesco a prendere, poi c'ho pure un totale quello che metto qua adesso, quindi, nice, buono, godem con 5 visitere sub, e benvenuti con le cani di cane, e fai veni, fai veni, fai veni il coso vai, grazie mille godem, benvenuti con le cani di cane bro, bella mate, come stai? i tentacoli si mettono solo io con questa passiva, però non possono stare più vicino di tanto, tranquillo, 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 dica, passatevi il sub e benvenuti con le cani di cane, me l'hai intata? che t'ho intato? dave con il resalve di 4 mesi, non ho tentato nulla mate, no no se non mi piace troppo, grazie mille dave, benvenuti con le cani di cane bro, non posso metterlo qua, ma guardate che jella, perché c'è sto tentacolo qua, ah no c'è il tentacolo qua, non l'ho visto minchia, grazie bro, così lo metto qua, ferro re, mi metto in mezzo a due tentacoli, che fa lui? oh cazzo e moica e e cm Volo Via Hashtag beccatani Eh resto bot dai Dopo la dead dance Dobbiamo decidere se fare O la spirit che potrebbe essere buona contro Echo singed e anche in realtà contro Enecdo anche se c'hanno i knight o andare tipo di Tormail Hashtag beccatani È interessante Vogliamo mettere i tentacoli il più in alto possibile Allora 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 Beh l'mf è strong adesso, la dp mi voleva farmi, vai in custom o mi ferma in custom? Uh pure da qua, bello sto tentacolo, qui posso anche devarlo si vede, vai in custom o mi ferma in custom? Uh pure da qua, bello sto tentacolo, è vero, 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 è vero. Yeah. Sì Il ragazzo sta facendo la cosa migliore qua Eppure è buono il moto in su di noi Molto buono Tentacolo tutti levati Sì sì ma io l'ho detto solo per trollarli Ovvio le nette devono usarlo contro i miei Però io l'ho detto solo per trollarli Era per flammarli tra virgolette Era soft flaming capito Faccio che se è così stupido da pensare di killarmi Dai usate un knight È soft La devi capire la linea Io non flammo mai Però soft flammo Cioè se è così stupido che non solo pensavi di killarmi Oh merda Come adesso I knight di singhade Mi sono fatto tankata ecco perché mi ha Mi ha stunato Brumblewest Peccato peccato cazzo È buono Io non flammo mai Ma il mio non è mai flame Cioè il mio quando scrivo in chat è sempre soft flame Tra virgolette Sennò mi badano l'account Oh è entrato nat E poi ghiucane 6-0 Nat è entrato 6-1 Nat Tu porti Jella Allora non è cattiveria L'altra volta mi hai detto Che vincevo tutti i game Gli ho persi tutti Entri 6-0 Perfect score 6-1 Allora mate qui c'è qualcosa che non va Dimmi un po' chi cazzo sei per favore E quando fai via come funziona? Amore Perché non stai facendo gli esercizi? Dica Passatevi nel sub E benvenuto alle gagne di cane 333 333 Intone 13 Con il risopo di 23 mesi Grazie mille intone Ribenvenuto alle gagne di cane Vi lo cazzo nel supporto Ava e ball Duda Duda Ma MF che sta a fa' MF MF l'ha giocata malissimo Quadragil Eh Madonna Ultimo quanto è bad Gragas Ah non ha mai critato Ma MF sembra non facesse Secondo me non ha attaccato Grazie mille intone Ribenvenuto Comunque continuo a non capire cosa fare Ok guys Let's rush Nash Non ho ni idea di come giocare con uno spray pusher Quindi andiamo a fare il Nash Eccle Eccle Grazie a tutti Ok Io ho un tentacolo qua Purtroppo non posso giocare split perché i miei teammates non sanno come giocarci Quindi sono costretto a gruppare A perdere un po' di vantaggio per questo Purtroppo mi vedranno i cani questo qui me lo perdi Quel sì, quel sì Vediamo se Sono già, già edio Vado di... Spirit Bot dovrebbe solo pushare in teoria Se riusciamo a pushare top e fare qualcosa Sarebbe carino Mi gioca con split in squadra Devi giocare safe e quando tutti vanno da lui Cerchi di vendere vantaggio dall'altra parte della mappa Invece questi sono venuti verso di me Vado dritto se ne vanno loro No 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 Grazie a tutti Così vedi Sto venuto su di me In battle mid E ora prendiamo pure questo qua top No hanno fatto Troppo tardi i miei Vabbè Aria free anche questo Se piacere ti devo venire mf qua Vabbè Ora non c'ho il tp Quindi voglio andare con i miei teammates qua We can see edge If you want Possiamo seggiare Se vogliono Non voglio fare un 50-50 perché sto gregas non mi sembra troppo pratico Però vedete la wave top non è pushata Ma perché? Questa che sta a fa? Non me l'ha grabato via Trash Andiamo 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 qua andiamo qua Venite qua Dio mio Ok Sì Poi potete avere il cd, che è la spectra Poi potete avere il cd, che è il cd, che è il cd, che è il cd. Poi potete avere il cd, che è il cd, che è il cd. No, in realtà non sempre. Qua se avessi sprucciato il gamer abbiamo finito dieci minuti prima, eh. No joke, dieci minuti prima. Abbiamo anche rischiato di perderlo per i cazzi loro. Ne facciamo un altro? O lasciamo così come una win? 33, no lo dobbiamo lasciare qua, 33.